buongiorno e ben ritrovati ad occhio ai giornali e l'edizione di questo lunedì 28 ottobre come sempre la apriamo dedicandoci al santo del giorno in questo caso però i santi sono due si tratta di san simone l'apostolo e san giuda tadeo quest'ultimo anche cugino della beata vergine il sole è sorto questa mattina alle 6 e 37 tramunto alle 17 05 ora lo sguardo al meteo e come vi è possibile verificare dalla grafica prevalenza di cielo nuboloso per il resto della giornata anche presenza di foschia in particolare nelle prime ore della giornata quanto invece alle temperature si manterranno sostanzialmente stabili con le massime intorno ai 18 19 gradi ed eccoci ora le notizie del giorno riportate come sempre dal resto del calino e corriere adriatico in primo piano l'assemblea dei soci della fondazione carifano che si è tenuta ieri il resto del calino titola centro alzheimer il progetto c'è eletti nuovi soci spunta capalbo così riassunti contenuti della assemblea che si è tenuta appunto ieri al centro il progetto della fondazione carifano del quale si parla da tempo di un centro alzheimer una struttura da 60 posti letto si legge all'interno dell'articolo che dovrà sorgere a fianco dell'attuale centro di urno margherita costruito dieci anni fa proprio dalla fondazione carifano un progetto per la cui per il cui sviluppo è fondamentale ha ricordato però il presidente della fondazione carifano gragnola la condivisione da parte di tutta la comunità ad iniziare da amministratori locali e regionali presupposto necessario per la costruzione del nuovo centro di urno è infatti in particolare la convenzione dei posti letto con la regione mar che ha insistito ancora una volta gragnola chi farà l'investimento dovrà avere questa certezza perché il centro non potrà essere riservato solo a persone con disponibilità economiche limitate aggiunto ancora gragnola che tiene molto a questa iniziativa per la quale appunto si aspetta un consenso convinto e concreto da parte delle istituzioni quanto invece agli altri impegni della stessa fondazione che sono stati illustrati all'interno dell'assemblea rimangono centrali anche il centro di urno di colli al metauro e anche il proseguimento dei lavori di restauro di palazzo zagarelli borgoggelli abbeduti nel pieno centro con l'obiettivo di aprire al più presto al pubblico il piano nobile venendo invece all'assemblea dei soci eletti quali nuovi componenti francesco ferretti imprenditore luciano poggiani naturalista e ancora francesco mei commercialista oltre ai medici francesco maria battistini presidente dell'ordine provinciale e maria capalbo già direttrice di marche nord rinnovati anche cecilia prete claudio giardini anche il corriere adriatico si occupa dell'assemblea dei soci della fondazione carifano cogliendo nel titolo un altro aspetto le erogazioni aumenteranno del 10 per cento così si è espresso appunto lo stesso gragnola gli aumenti riguarderanno tutti i settori eccetto quello di famiglia e valori connessi per il quale lo scorso anno erano stati impegnati 900 mila euro per il finanziamento della costruzione del nuovo centro di urno casa e vita appunto accolli al metauro al quale sono stati assegnati 500 mila euro come il settore arte attività e beni culturali 300 mila euro invece ad educazione istruzione formazione salute pubblica medicina preventiva e riabilitativa volontariato filantropia e beneficenza e protezione e qualità ambientale nei settori salute pubblica medicina preventiva e riabilitativa e protezione e qualità ambientale previste risorse triplicate rispetto all'anno precedente sottolinea ancora il corriere adriatico che dà conto anche dei termini per il bando che la stessa fondazione carifano ha finanziato con 70 mila euro finalizzato ad interventi proprio nel settore del volontariato e della filantropia e termine ultimo per presentare domanda è quello del 15 novembre 2024 occupandoci invece più estesamente del tema della medicina e anche di questa iniziativa della fondazione carifano per il centro residenziale per malati di alzheimer ecco che offre sponda la seduta dell'ordine provinciale dei medici che si è tenuta ieri ne ha parlato nel dettaglio proprio il presidente provinciale dell'ordine battistini ne è eletto in seno all'assemblea della fondazione carifano nel specifico battistini ha rilevato l'importanza di questo progetto della fondazione carifano facendo riferimento ai numeri definiti impressionanti delle malattie come l'alzheimer e demenze quasi 3000 i pazienti della provincia di cui 1200 soltanto a fano ha registrato lo stesso battistini nel dare forza a questa iniziativa più in generale la seduta appunto dell'ordine provinciale dei medici ha trattato il tema delle nuove sfide con il giuramento dei neolaureati le medaglie d'oro ai decani nel mirino le violenze sui sanitari l'ordine dice basta bene il decreto sulle aggressioni no ad invasione di campo degli infermieri aggiunto ancora lo stesso battistini che invoca più telecamere nei luoghi di lavoro degli operatori per fermare appunto gli assalitori fenomeno questo che ha assunto una particolare recrudescenza nell'ultimo periodo nel dettaglio 41 i nuovi medici più tre e odontoiatri che hanno giurato di fronte appunto ai 19 iscritti con più di 50 anni alle spalle dopo la laurea adesso gli altri temi trattati nelle pagine fanesi in questo caso della Corriere Adriatico a partire dal programma che si sta mettendo appunto per il prossimo Natale pista di patinaggio al Pincio per il Natale pronti 80 mila euro un primo finanziamento previsto dall'amministrazione comunale che ha chiesto l'autorizzazione alla sovrintendenza per installare appunto la pista di patinaggio al Pincio nelle ultime edizioni era stata collocata nel parcheggio nei pressi della Rocca Malatestiana altro spostamento quello previsto per il presepe dei carristi che verrà trasferito in piazza Marcolini un programma per il momento di massima che prevede anche tour con il trenino in centro storico ogni sabato e domenica il via è previsto per il 30 novembre ancora all'interno dell'articolo si legge come non mancherà l'organizzazione di eventi ludico ricreativi e di esibizioni musicali in piazza 20 settembre così come sarà sfruttata ampiamente appunto l'area del Pincio quanto invece al presepe di San Marco attrazione unica di cui può vantarsi Fano non mancherà anche quest'anno l'addizione di altre scene per rendere ancora più suggestivo quello scenario nelle cantine di Palazzo Fabri sul Corriere Adriatico anche un evento recente quello voluto dall'associazione alberghi consorziati che ha inteso premiare le aziende enogastronomiche che identificano la qualità del territorio meriti assegnati anche alla Sagra della Polenta i produttori di porchetta e pane spiega il presidente dell'associazione Luciano Cecchini un'iniziativa a cui teniamo particolarmente alla luce del fatto che appunto le aziende enogastronomiche possono appunto aumentare il richiamo del nostro territorio e a proposito di prodotti anche il convegno che si è tenuto al monastero di Montebello organizzato dal consorzio Marche biologiche i prodotti bio tirano all'estero ma non nel mercato interno e questa è la valutazione che è emersa in sede di analisi del settore all'esame del consorzio anche una nuova strategia segnalata in particolare la necessità di un'informazione inclusiva ed un'educazione che coinvolga le scuole restiamo al territorio ma il tema è quello delle opere pubbliche l'esito del bando per la messa in sicurezza delle strade c'erano in ballo quasi 7 milioni e 700 mila euro strade marciapiedi ciclovie via restaring in 40 comuni marchigiani opere per oltre 12 milioni complessivi l'assessore regionale alle infrastrutture baldelli entra nel merito di progetti scelti per la qualità e la cantierabilità pesarese fermano le province che prendono più fondi il tetto massimo di contributo regionale fissato a 300 mila euro come si evidenzia anche dalla tabella tra gli interventi anche l'abbattimento di barriere architettoniche più in generale baldelli ricorda come l'amministrazione acquaroli abbia messo a disposizione degli enti locali 119 milioni a fondo perduto quanto ai comuni beneficiari della provincia di pesaro urbino nessuno dei quali sarà però beneficiario del contributo massimo di 300 mila euro si tratta di san costanzo sant ippolito fosso ombroni monte felcino monbaroccio piobbico sant'angelo invado urbani a lunano pian di veleto sasso corvaro e tavoleto assessore regionale infrastrutture baldelli che è stato protagonista in questi giorni di un dibattito a distanza con il sindaco di pesaro dell'ex sindaco di pesaro ricci attuale europarlamentare che aveva accusato il governo di voler privare di 1800 milioni di territorio per il bypass ferroviario sul tema dice oggi la sua sul corriere adriatico bagliocchi consigliere regionale di fratelli d'italia che si rivolge proprio a ricci faccia chiarezza sul caso a fili altro che il ballon de sè del bypass meglio che pensi al passato piuttosto che al futuro così bagliocchi si rivolge ancora a ricci che utilizzerebbe riguardo appunto al bypass ferroviario una tecnica di distrazione di massa parliamo di altro per non parlare del sistema pesaro e quello che il centrodestra indica alla base dei cosiddetti affidi facili finanziamenti erogati in particolare a due realtà che non avevano nei mezzi negli uomini per operare gli interventi per i quali avevano ricevuto finanziamento si tratta di un metodo quello di ricci che cerca di spaventare l'opinione pubblica e spostare il bersaglio come se i pesaresi non avessero capito al di là dell'indagine della magistratura secondo lo stesso bagliocchi c'è una chiara e gravissima responsabilità politica e ricci faccia basta di declinare ogni due per tre che non ne sapeva niente chiarisca mi fa specie che il concetto del non poteva non sapere aggiunge ancora l'esponente di fratelli d'italia venga disinvoltamente impiegato in modo double fas dalla sinistra seconda che riguardi loro la parte avversa sul tema dell'arretramento della ferrovia dice la sua anche l'assessora comunale a pesaro frenquellucci secondo la quale ci sarebbero dati molto precisi del beneficio che l'arretramento della ferrovia porterebbe non solo in termini occupazionali ma anche alla viabilità e in generale al turismo balneare sempre dalle pagine pesaresi della corriere adriatico la caduta di coppi in strada dal san benedetto che è stato transennato il sindaco biancani richiama regione azienda sanitaria territoriale alle loro responsabilità devono intervenire per la parte di loro competenza ne va dell'incolumità pubblica ancora dalle pagine pesaresi del corriere adriatico anche l'eco degli stati generali del turismo che si sono tenuti sabato bene l'effetto capitale ma al turismo servono anche investitori e questo è l'assunto del pensiero di alcuni operatori i buoni numeri diffusi dagli stati generali innescano il dibattito nel settore con pesaro 2024 si è beneficiato di un traino che adesso però occorre far fruttare riassunti in particolare agli interventi di agnese truffelli di conf commercio crediamo molto nella nella destagionalizzazione gli effetti si vedranno di marco filippetti presidente di apa i numeri hanno valore relativo va capito che tipo di vacanza si vuole albergatori perplessi come si evince anche dal parere di fabrizio oliva ci sono albergatori che quel 30 per cento in più non l'hanno visto e poi davide il passo di confesercenti dobbiamo riportare degli eventi di qualità come è stata pop sofia c'è la necessità su questi sono e su questa sono tutti d'accordo di lavorare insieme al comune intanto per quello che riguarda il restyling di alcune zone chiave del lungomare il sindaco biancani annuncia entro novembre il bando per il nuovo viale trieste un concorso di idee che riguarderà anche due aree di sosta baia flaminia si legge all'interno del dell'articolo e una servizio della zona mare alevante oltre l'utilizzo del del fossato di rocca costanza per nuovi eventi all'aperto con questo bando si punta appunto ad arrivare ad una progettazione che consenta poi di intercettare fondi ministeriali ed europei quanto invece alla capitale della cultura il progetto itinerante capitali 50 per 50 farà tappa questa settimana da qualagna fino a domenica numerose iniziative con la fiera del tartufo sullo sfondo titola appunto il corriere adriatico mentre il resto del carlino sempre dalle pagine dedicate a pesaro si concentra anche sulle somme che sono state erogate a pesaro all'ente concerti più di 157 mila euro l'anno ma i bilanci dell'ente sono segreti in mille rivoli della cultura questa la premessa fatta dalla quotidiano bolognese che continua ad occuparsi dei fondi pubblici erogati a diverse realtà la presidente dell'ente dell'ente concerti mancini sottolinea riguardo ai bilanci non li pubblichiamo su consiglio del commercialista non vige un obbligo in quanto l'ente concerti non è iscritto al registro del terzo settore i fondi che ci garantiva gli anni scorsi lo stato erano molto più alti fa notare la stessa mancini che rileva come la comune abbia obbligato l'ente a lasciare la sede storica palazzo gradari c'era la necessità da parte del comune di fruire di quegli spazi che venivano concessi gratuitamente allo stesso ente concerti che nel dettaglio ha percepito 157 mila euro di fondi pubblici più della metà peraltro dal ministero dei beni culturali oltre 46 mila arrivano dalla regione 30 mila dal comune di pesaro due da quello di urbagna restando in ambito culturale anche l'atto conclusivo del festival nazionale d'arte drammatica premiate le stelle del gad la nostra forza i giovani a dirlo è il direttore della chiara a conclusione della rassegna era la settantasettesima edizione e a vincerla è stato lo spettacolo uomini e topi si legge dal somarietto messo in scena dalla compagnia i giardini dell'arte di firenze la cronaca invece ci porta quanto accaduto in un locale di viale trieste ladri in viale portano via soldi e gin l'episodio intorno alle sette il titolare si stupisce della sfacciataggine dei malviventi che abbiano che hanno operato in un orario in cui già c'è gente in giro sempre per la cronaca la quercia che è caduta in strada a galantara l'episodio si è verificato ieri mattina sul posto ai vigili del fuoco per liberare la carreggiata quanto invece al territorio il corriere adriatico si occupa in particolare della riapertura palazzo ducale di urbino dell'appartamento degli ospiti giovedì l'inaugurazione del rialestamento di cinque sale dopo lavori per sei milioni di euro urbino che piange la scomparsa di vincenzo e ulisse definito il pittore dell'impegno sociale ha vissuto 25 anni nel capoluogo feltresco lasciando opere nel territorio l'addio mercoledì a venezia ancora dalla corriere adriatico e dal territorio quanto accaduto a mondolfo si schianta contro il portone dell'ex convento boato nella notte sveglia gli abitanti guidatore illeso fuga di gas subito riparata proteste poi da monteporzio per un blackout notturno i residenti si lamentano chiesta al sindaco maggiore cura e soprattutto la garanzia che l'illuminazione pubblica funzioni regolarmente e adesso come ogni lunedì spazio anche allo sport cominciando dalla pallavolo e il successo al tie break dopo quasi tre ore di lotta della smart system essence hotels nel campionato dia 2 battuta cuneo una delle grandi di questo campionato e il titolo del corriere adriatico a questo riguardo è appunto una sottolineatura del cuore che la smart system essence hotels ha messo in campo fanno vince al tie break la maratona contro cuneo annullati sette match point prima di far proprio l'incontro così appunto viene condensato l'andamento di una gara palpitante restando poi in ambito pallavolistico in evidenza anche il nuovo successo della megabox valle foglia nel campionato dia 1 inizio distrato poi la talma sons e travolta un blackout costa valle foglia il primo set poi bici e lì trovano la reazione giusta per chiudere al 3 a 1 come si può desumere dalla classifica bilancio molto positivo quello di queste prime quattro gare di campionato con valle foglia al terzo posto in classifica seppur in affollata coabitazione tiene banco anche il momento particolarmente delicato della carpegna prosciutto battuta nettamente anche sabato sera a milano dall'urania well indietro di due mesi e il concetto che è tornato a rimarcare il nuovo allenatore leca ci manca il ritmo offensivo ma abbiamo margini di crescita fisica la squadra troppi giocatori che non rendono come dovrebbero e pesa l'assenza di un playmaker il quarto k o di fila ha intanto reso ancora più coppiata la situazione di classifica esplode intanto la rabbia sui social da parte dei tifosi basta disertiamo il palace è l'iniziativa che più di qualcuno invoca supporter stanchi di assistere alle debacle bianco rosse anche il resto del carlino esamina la fase estremamente difficile della vl chiuso un caso se ne aprono altri tre con un mistero da risolvere si chiama king l'americano a quota 0 nella gara di milano maretto invece si è riscoperto protagonista ma colpisce il nulla dell'americano 23 minuti in campo appunto senza muovere il tabellino anche in bro e bucarelli restano però note dolenti e adesso il calcio è sempre dal resto del carlino il focus sulla vispesaro che nel campionato di serie c con la migliore prestazione stagionale ha liquidato con un rotondo 4 a 0 il carpi nella serata di venerdì il resto del carlino fotografa così la situazione la vispesaro gubbio sulle ali dell'entusiasmo già ci si proietta sull'impegno infrasettimanale non c'è tempo per festeggiare domani si gioca dopo una grande partenza la squadra di mister taurino sulla strada appunto dei biancorossi ha collezionato sei punti in sei partite scendendo invece al campionato di serie di è il corriere adriatico che ci dà conto del pareggio 1 a 1 che il fosse brone ha ottenuto con il notaresco dopo la prima sconfitta metà settimana ha recanati una ripartenza al rallentatore della squadra di meta metaorense che peraltro può vantare un bilancio quello di questa prima parte di stagione assolutamente lusinghiero fossombrone riparte a metà e solo pari con il notaresco dopo il cappa o di recanati metaorense vanno sotto ma riescono a rimediare e ancora una volta casolla nella ripresa a pareggiare il gol che braccia aveva messo a segno per gli abruzzesi nel primo tempo l'allenatore fucili si dice contento della reazione della squadra bravi a tenere a tenere duro e poi a recuperarla sul piano individuale rilevato ancora una volta il contributo determinante di casolla almenighi intenso suo l'assist qualche sbavatura da parte di urso conti non lesina energie scendendo poi al campionato di eccellenza qui a mettersi in particolare evidenza sono il montecchio gallo e l'urbania montecchio gallo che vola l'osimana deve arrendersi terza vittoria consecutiva per i bianco rosso blu che si portano a meno uno dalla vetta e la 2 a 0 firmato da villanova e peroni benissimo anche l'urbania che nel finale piega la san giustese ed ora è in zona playoff rileva nella titola il corriere un gol di franca all'ottantottesimo mette capola san giustese bianco rossi ora quarti notevole però anche l'impresa dell'urbino che rimonta due gol alla maceratese designata quale favorita numero uno per la promozione la maceratese fa carachiri va sul 2 a 0 poi viene a ripresa l'urbino non molla e conquista il primo punto in trasferta la rata salva il primato sono stati galante e dà la buona su rigore nel secondo tempo a riacciuffare i padroni di casa per finire l'alma juventus fano che torna a perdere pesantemente lo fa fermignano contro il matelica matelica poker in casa dell'alma la vetta e a due punti bianco rossi dominano chiudendo il primo tempo in vantaggio di tre reti per l'alma assegno lettieri nel finale di partita e siamo così al termine di questo appuntamento con occhio ai giornali come sempre grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata grazie a tutti